salve a tutti i friends dal vostro supercorris eccoci qua ragazzi approfondimento su science e leclerc di solito li cito separatamente ma dato che già c'è una prossima gara questa settimana è inutile dilungarsi troppo una settimana troppo compressate quindi avete visto non ho fatto neanche il format delle domande del giovedì la faremo la puntata dalla settimana prossima perché correndo in una settimana consecutiva è un casino però mi faceva piacere parlare di science e leclerc perché oggi sembra che i piloti ferrari siano delle povere vittime che stanno subendo sopprusi della ferrari sì da un certo punto di vista la possiamo vedere anche così ma non pensate che loro non siano esenti da errori da litigi in pista da situazioni che ci portano a pensare soprattutto a me ma siamo sicuri ad oggi che science e leclerc sono ancora la coppia decente per far fare un salto di qualità ferrari evidentemente no perché più si va avanti più ci stiamo rendendo conto che probabilmente sia science che leclerc sono entrati in un tunnel dalla quale è difficile uscire ragazzi domenica vi dicevo sembrano berger e alesi andate a vedere gare come quelle del portogallo 95 stessa situazione berger c'ha le gomme è uno stint molto più veloce c'ha le gomme so quelle c'ha uno stint molto più veloce c'ha poca benzina perché all'epoca c'erano i fornimenti bastava imbarcare poca benzina tra una sosta e l'altra un pilota andava molto più veloce di quell'altro che era più pesante berger berger deve superare alesi perché c'ha un un ritmo molto più veloce farà una sosta anticipata alesi si punta e non lo fa passare rovina la gara berger e si rovina la gara se stessa c'è polemica i due non si possono prendere più cosa sta accadendo tra science e leclerc ragazzi polemiche problemi si sorpassano in qualifica se ne dicono tutti coloro alla radio si promettono vendette cioè si può fare il bene della ferrari in questo modo ma capirete che non è così non è così perché poi l'odio continua a crescere anche perché c'è un pilota che adesso è diventato il centro di tutte le attenzioni e quell'altro che deve fare sempre il gregario senza poter dire la sua la problematica minuscola è che tra i due quello che va più veloce il gregario perché ragazzi nella totalità delle gare quest'anno science è sempre andato un po più veloce di leclerc in gara in quanto riesce a gestire meglio le gomme leclerc stesso ha detto in 1700 interviste non riesco a guidare la macchina non mi trovo bene con la macchina non riesco l'ha detto lui non l'ho detto io mentre invece science al peggio più o meno una pezza ce la mette ora prima di continuare come al solito invito a scrivere a tutti i miei canali lasciate un like seguitemi sui miei social sul canale telegram ufficiale supercorris 84 per le inusinanti primi sondaggi con cui chiedo la vostra opinione c'è il canale viola supercorris gamer stasera torniamo in live c'è la mia raccolta fondi supercorris i'm friends potete aiutarmi a raccogliere fondi a donare in beneficenza trovate il link di paypal in descrizione ragazzi una causa importante fine mese doneremo all'unicef e all'airk per i tumori basto un euro vi ringrazierò a prescindere dalla cifra donata ringrazierò tutti i donatori di giugno e di luglio il discorso quale ragazzi a me farebbe piacere se i miei video girassero un po di più su youtube perché stiamo un po mettendo pressione a tutti quelli che organizzano le gare anche voi dite in minima parte sì perché la gente si è stufata io con i miei video di protesta di cercare di smascherare questa gente un po di pressione la stiamo mettendo perché mi sembra assurdo ma anche tante persone che orbitano nel mondo della formula 1 iniziano a notare la nostra presenza e ve lo posso assicurare quindi qual è il discorso sostanzialmente il discorso è semplicissimo ragazzi ferrari sta facendo disastri quest'anno ferrari ha portato in gara una macchina dall'inizio inguidabile e indecorosa dall'inizio ferrari ha capito che questa macchina quest'anno ragazzi non la potevano cambiare è stata una presa per il culo per aiutare gli sponsor a essere tranquilli e arrivare altri sponsor è stata una presa del culo dire vinciamo il mondiale possiamo lottare per far star buoni i tifosi non a caso ferrari continua a segnare record sui social a crescere proprio all'atto pratico la verità era solo una ferrari già sapeva che la macchina era indecorosa probabilmente anche per tenersi buoni piloti è stato detto no svilupperemo aggiusteremo l'auto quando era chiaro ragazzi ho detto inizio mondiale questa è una macchina che per le caratteristiche che sta mostrando non può essere migliorata purtroppo non è allora mclaren mangiava le gomme anch'essa però forse aveva meno problematiche si sono risolte questa ferrari ha troppe problematiche perché ho detto all'inizio si è fatto un lavoro troppo estremo ci serviva di estremizzare tutti i concetti della sf 75 no perché era una vettura già con ottime basi bastava fare un'evoluzione normalissima e avremmo avuto in pista quest'anno una macchina ottima che andava meglio di questo si è rivoluzionato il tutto adesso fa caldo e le gomme si degrade tira vento e la macchina è inguidabile nelle curve veloci non c'è velocità nelle curve lente non c'è velocità cioè è una macchina che è un disastro è un disastro io ve lo dico da settimane mesi non si può pensare è la sospensione che non si sa che fine ha fatto è il fondo è quello che ha detto ragazzi non potete pensare che queste modifiche porteranno questa ferrari a essere competitiva perché ha dei difetti gravi che neanche all'epoca schumacher quando c'erano i test liberi tu una macchina così problematica la potevi portare a vincere furiamoci ora ora che sembra che ferrari una delle poche scuderie poi che si deve attenere al budget cap perché ogni minimo problema ferrari è quella che non sviluppa per niente ferrari è quella che ha sempre problemi perché ha paura di evadere il budget cap evidentemente a ferrari hanno detto tu non puoi minimamente evadere perciò il discorso che io vi faccio da settimane è andate tranquilli che tanto la macchina non verrà sviluppata ferrari già avrà bloccato lo sviluppo e infatti è evidente come ferrari già da settimane ha bloccato lo sviluppo di questa auto perché ha capito che tanto non potrà fare nulla perciò la seconda parte di stagione sarà un disastro disastri ai box nelle soste che prima a inizio mondiale erano perlomeno decenti ora non lo sono più disastri nelle strategie siamo peggio dell'anno scorso ma la cosa che più mi sciocca a me e là è grave perché almeno gli strateghi cazzo cambia li trova qualcuno decente visto che è uno sbratto totale però ragazzi non potete dire che i piloti non ci hanno colpe cioè ad oggi che piloti abbiamo noi cioè prendiamo carlos sainz pilota che fino all'anno scorso ma pure fino alla prima parte di questo mondiale pilota comunque consistente faceva errori limitati è stato costretto a fare l'errore a miami ha sbagliato ha preso la penalità all'ingresso box penalità gravissima ha frenato tardi ha preso la penalità l'errore in australia però diciamo che non doveva manco ripartire la gara di base però senza ha fatto grandi gare quest'anno in austria ha fatto uno spettacolo su appassi sontuosi i track limits l'hanno fatto pure gli altri ragazzi non sono stati penalizzati il discorso è semplicissimo sainz era un pilota comunque costante che gestiva bene le gomme che riusciva a fare stint molto lunghi rispetto al compagno di squadra l'abbiamo visto vi ricordo austria 2021 russia 2021 gare dove sainz con i suoi stint lunghi è riuscito a sopravanzare le clerche a stare davanti alle clerche senza ad oggi che pilota è un pilota che non riesce a gestire più le gomme abbiamo visto che anche lui è crollato a fine gara come le clerche con le bianche non riesce a gestire le gomme non riesce più a gestire le strategie un minimo ci ha provato in ungheria portando avanti lo stint iniziale con le rosse ma all'atto pratico cosa è successo è crollato ha fatto tre quattro giri per incocciarsi a portare avanti lo stint quando ormai la gomma era morta ha perso una marea di tempo è un pilota che non ha più fiducia in se stesso non ha più fiducia nel chiedere al team di andare avanti negli stint se gli fanno fare una strategia l'accetta prima invece dice no questa strategia non la faccio mi ricordo in russia proprio riuscì a fare una strategia eccezionale è un pilota che abbiamo visto in austria in austria si è giocato il podio per seguire quello che gli ha detto il team lui non voleva rientrare il team detto no devi rientrare è entrata sbagliato come ha sbagliato a monte carlo un pilota che si lamentava sempre prima e riusciva in questo modo comunque ottenere delle attenzioni un pilota che da tre gare cioè canada austria e anche praticamente diciamo silverson e soprattutto la partenza in ungheria si fa andare bene il discorso che va più veloce di leclerc in ungheria c'era anche le gomme più morbide azzecchi una partenza eccezionale c'è i dieci giri di fuoco dove puoi attaccare anche quelli che stanno davanti alle clerche rimane dietro chars e sta pur zitto zitto e silenzio e anche alla fine secondo me gli hanno detto non lo passare è arrivato a cinque secondi e sette decimi quando stava sotto i cinque secondi secondo me alla fine gli è stati dietro e non rompere i coglioni pilota sacrificato pilota che ha perso fiducia in se stesso nel team dopo le interviste no ma dai cambia la pista possiamo provare cerca di tirare su il morale a tutti quando lui è stato il primo critico giustamente adesso evidentemente lo hanno preso gli hanno detto stai zitto tuo ruolo quello è quando barrichello fece passare schumacher in austria nel 2002 che non era necessario perché barrichello l'aveva vinta quella gara e sostanzialmente schumacher già era bello che è andato in classifica piloti quindi non serviva ferrari fece quella sceneggiata patetica barrichello decise di far passare schumacher dopo l'ultima curva sul traguardo quando barrichello uscita la macchina e tutti stavano là pronti per fargli intervista jean todd ci sono i video pur su youtube sulla ringhiera rubens vieni qua gli sta all'orecchio quattro cose barrichello avanti le telegrami non ti preoccupare non dico niente non dico niente todd gli disse stai zitto non parlare più la settimana dopo firmò il rinnovo del contratto con la ferrari ferrari secondo me a science che gli ha detto ti sti zitto e accetti tutto quello che diciamo ecco perché non si lamenta più science fateci caso dopo l'austria science tranquillo in austria l'ultima gara dove si è lamentato silverson e vabbè può succedere domenica no vabbè ma dai la pista ma vediamo spa siamo fiduciosi ferrari secondo me a science gli ha detto devi stare zitto non criticare più fai quello che ti diciamo noi quindi rimani dietro le clerche e non rompere i coglioni questo ha fatto la ferrari con science quindi andate a snaturare tutte le caratteristiche di science che quest'anno ripeto con questa vettura può andare più veloce di le clerche ma ogni gara rimane dietro vuoi una volta per la qualifica vuoi una volta per qualsiasi risultato se gli arriva dietro alle clerche non lo fanno passare mai un pilota disastrato allora vi dico io conviene continuare a tenere science nel team c'è un contratto per tutto il 2024 ma conviene a tenere science e le clerche che hanno iniziato a litigare hanno iniziato ad avere problemi personali tra di loro due piloti che hanno due stili completamente diversi l'anno prossimo per chi fai la macchina per le clerche science non riuscirà a guidarla quindi questo è il discorso science il discorso le clerche di cosa vogliamo parlare ragazzi le clerche è un pilota che va davanti alle telecamere sempre che l'hanno presa a schiaffi mezz'ora c'ha le lacrime agli occhi ogni volta e poi dice no ma io sono fiducioso puntiamo a farcela sono stimolato ma di che cioè tutte chiacchiere abbiamo visto che le clerche ma come lo stesso science pure in pista ormai sono diventati dei birilli li passi con una facilità enorme ma vi ricordate le clerche a silverson 2022 con le bianche che cazza combinato per farsi sorpassare da perez a hamilton fece una difesa mostruosa le clerche l'anno scorso non si faceva superare mai era fenomenale quest'anno gli arrivano dietro pastac avete visto raster tutti quanti senza problemi le clerche che fa l'ennesimo errore c'è entra in box il team gli ha fatto il casino di fargli perdere 9 secondi e va bene entra in box penalità ma è normale per voi una cosa del genere ragazzi cioè ma voi avete visto hamilton alonso verstappen avere problemi del genere raster norris c'è solo le clerche ha preso due penalità in due anni e science a miami cioè poi ci vogliamo lamentare i piloti top se minchiate non le fanno com'è possibile che tu arrivi ai box come un pazzo freni all'ultimo secondo e ti becchi in altra penalità dopo che già l'hai fatto l'anno scorso cioè com'è possibile cosa guadagni tu a frenare all'ultimo secondo a rischio di prendere 5 secondi di penalità nulla hamilton è entrato dopo di le clerche ha frenato mezz'ora prima e non ha preso la penalità cosa pensi di guadagnare frenando 30 metri 50 metri dopo nulla guadagni 2-3 decimi che in pista non servono un cazzo perché tanto il risultato non cambia e preso 5 secondi di penalità che gli avrebbero permesso di arrivare avanti norris e russell scusate piastri e russell e questo è un pilota secondo voi che sta in forma che mentalmente è lucido no raga no le clerche è il sosia di alesi degli anni 90 per chi l'ha vissuto era uguale un alesi sull'orlo di una crisi di nervi che poi beccava la domenica giusto il podio la vittoria in cana da amore a ferrari sono la persona più contenta del mondo la domenica dopo andava male devastato mentalmente e fisicamente allora vi dico io conviene continuare a puntare su piloti demotivati in questo modo oppure conviene iniziare a mettere un po' di ansia visto che le clerche non rinnova neanche cercando di portarti a casa un norris che abbiamo visto entusiasmo alle stelle anche quando la macchina andava male secondo me è proprio finito l'idilio tra le clerche e il team cioè la il feeling tra le clerche e la ferra è finito ha detto pure Vassaretto e le clerche fa troppi errori cioè è arrivato Vassaretto a dire il più grande leccacuro che abbia sentito negli ultimi mesi in formula 1 è arrivato a dire le clerche fa troppi errori cioè ragazzi vuol dire proprio che nel team qualcosa si sta rompendo perché le clerche è sempre stato difesa a spada tratta poi in pista comunque lo lo privilegiano sempre però ha detto Vassaretto le clerche fa troppi errori sintomo che l'aria che tira in ferrari ragazzi non è la migliore del mondo il clima ormai è pesante si rimarrà insieme probabilmente nel 2024 perché non ci sono team che possono prendere le clerche e sainz e ferrari non è il sostituto perché secondo me ragazzi già nel 2024 era meglio cambiare completamente la line up di piloti o perlomeno uno o l'altro se ne dovevano andare perché mi avete detto Corrado se arriva Norris se arriva Norris con Sainz è sempre lo stesso problema Norris ha uno stile di guida Sainz ce n'è un altro e non le riesce a mettere d'accordo lo stesso quindi dovrebbe arrivare Norris o con le clerche oppure devi prendere un secondo pilota alla Norris un Gasly, un Albon, piloti aggressivi nella guida che hanno quello stile di guida molto aggressivo altrimenti se tu prendi Norris e prendi Sainz che hanno caratteristiche completamente diverse ti ritrovi a fare una macchina che o va bene per uno o per l'altro e non riesci le clerche fa errori che non si sono mai visti in Formula 1 e ripetuti pure quest'anno gli errori delle clerche non oso immaginare quanti ne ho contati se dovessi fare un video durerebbe mezz'ora non che Sainz ne abbia fatti di meno qualcosa in meno l'ha fatto Sainz però una marea di errori una marea di errori ragazzi nonostante tutto il team sta ancora là a favorirlo in pista per farlo arrivare davanti Sainz sperando che rinnovi e se non rinnova è distrutto la stagione di Sainz come l'anno scorso è distrutto quella di Leclerc, capiamoci Leclerc ha rischiato di non arrivare manco secondo nel Mondiale Piloti perché Ferrari a un certo punto della stagione Sainz a tavoletta contro tutti i pronostici contro tutte le prestazioni in pista e quest'anno stai facendo il controllo Sainz che è il pilota che va poco poco meglio riesce nella sua difficoltà comunque a gestire un po' meglio questa vettura che si mangia le gomme che ti potrebbe puntare a prendere Alonso, prendere Hamilton quindi cercare di fare un terzo posto nella classifica finale che non è male Sainz lo stai, gli stai tagliando le gambe in tutte le gare lo fa rimanere comunque sempre dietro Leclerc e zitto Leclerc che è in palese difficoltà lo continui in pista a far rimanere davanti a Sainz anche quando non c'è nessun motivo e qua anche quando non lo merita quindi i piloti sono secondo me in disarmo il fatto che non si lamentano neanche più è proprio un discorso di dire ormai non ce ne frega più un cazzo perché ci siamo rassegnati ragazzi quando finisce anche la rabbia la delusione quando non senti più Team Radio infuocati quando non senti più interviste infuocate quando li vedi in pista gironzolare anche quando sono vicini ti rendi conto che probabilmente in Ferrari ad oggi tutti hanno gettato la spugna ma non solo per quest'anno probabilmente anche per le prossime stagioni ciao a tutti 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 ciao a tutti